perché dopo l'8 dicembre un po' l'intro è Natale c'è tutto lo staff del crinale, Antonella, alla mia family vediamo due tipi loschi allora innanzitutto buonasera, per me è un onore essere qui al Viniles insieme a Gianni Schiuma, al mio maestro perché devo dire la verità è colui che tanto tempo fa, non dico la data, mi ha dato il microfono in mano e ha detto divertiti e ha sbagliato tutto però alla fine la cosa è riuscita e ancora oggi siamo colleghi, amici prima di tutto e penso e spero che facciamo divertire tante persone io passo il microfono a colui che realmente deve parlare abbiamo fatto delle performance bellissime io e Paolino un po' di anni fa e abbiamo sempre mantenuto un rapporto di confronto amicizia e anche di stima reciproca parliamo anche spesso di vita personale, di consigli e di visione di questo mondo che cambia sempre in continuazione questa sera siamo contenti di averlo qui con questa band meravigliosa insieme a Giorgio Ciabattoni e la G-Spend e niente, siamo contenti, l'atmosfera è giusta, l'ambiente è giusto e ci godiamo questa bellissima serata va bene, io ringrazio Rivero oggi e tutto lo staff e il resto sta alle immagini, alla voce di queste persone e al cappellino di Gianni che piace tantissimo però siamo alla stessa testa guarda, lo abbraccio perché tanto noi siamo vaccinati siamo qui, siamo in un locale bellissimo grandi e vaccinati, da tempo quindi vi aspettiamo non solo per questa sera ma al vinile è una bellissima location qui a San Benedetto non devo dirlo io però è così ciao, grazie grazie